Da 75 anni forniamo alle più grandi nazioni del mondo le armi più moderne del mondo. Quindi se vedete questo simbolo, sapete di essere in buone mani. Bisogna congratularsi con George, è stato una bomba. No, 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 niente bomba, meglio dire favoloso, meno allusivo. Che stai facendo? Se mi preparo a festeggiare il mio compleanno. La strada è bloccata. Tu fammi vedere il lodge. E niente baruffe, ragazzi, dobbiamo fare squadra in questo weekend. Sì, beh, spiegalo a Richard, lui pensa che siamo qui per passeggiare. Allora, fate un bel sorriso. Non è il posto giusto? Sì che è il posto giusto. È evidente che questo non è il posto giusto. Ho visto qualcuno. Qualcuno vuole ammazzarci come ha fatto con l'autista. E se le storie su questo posto fossero vere? Quali storie? Che era un manicomio da cui è scappato qualcuno che sa che siamo della paliseide. E come fa a saperlo? E come fa a saperlo?